Ce l'abbiamo fatta? Sì, sì, bellissimo, buon percorso, complimenti, ce l'abbiamo fatta. Non ce la fai più? Dura? Durissima. Che ti è successo? Brutta esperienza. Brutta esperienza, ma come è stata? Dura? Durissima, durissima, da gestire tutta la gara, però all'ultimo le forze mancano proprio. Bella esperienza? È bellissima, sì, un bel percorso, molto impegnativo, le ultime curve sono state fatali, si vede. Ah, ok, grazie, ciao. Complimenti. Ciao, ciao. Com'è andata? E' andata bene, è andata bene. Chi è arrivato il migliore di voi? Il Barbaro. Il Barbaro? È andata bene, è andata bene, è andata bene. È andata bene. Ecco a gente, è andata bene. Grazie a tutti.